Splendido! Ora devo lasciarti, i microfoni mi aspettano. Ci vediamo stasera. Mi viene a prendere per cena e indosserò la volpe. Le volpe? Ma no, saresti ridicola. Ora è il triunfo del Ryan in un crescendo rossignano. L'ugola d'oro ha di nuovo perso al gioco. Dicevo solo per salvarti da certe ostentazioni volgari della ricchezza, classiche di una mantenuta, mia divina. Non perdiamo altro tempo parlando degli attori. Sono in ballo i nostri soldi e ogni mezzo è licito per non perdere neanche una lira. Che giusto, non perda di vista i profitti. Oh, come vede non porto ancora gli occhiali. I profitti li avremo e nessuno si accorgerà di me. Comincerete a controllarvi? Mi avete letto nel pensiero. Per voi sono un libro aperto e vi rispetto. Sarebbe meglio che rispettaste i soldi. Valgono di più. Allora, questa dolcissima parola devi ripetarmi.